SANA 2021 Un'aziendina familiare, giunta oggi alla terza generazione con più di 60 anni di storia. Produciamo bibite sia in vetro che in plastica, sia biologica che convenzionale. Oggi qui alla SANA presentiamo la nostra linea biologica. Sono circa 14 referenze, tutte ottenute con materie prime di agricoltura biologica. Inoltre utilizziamo gli agrumi tutelati dai brand IGP e DOP. Cerchiamo di enfatizzare al meglio quelle che sono le nostre specialità agrumicole. Quindi voi fate soltanto bibite? Come azienda fate solamente bibite? Ad oggi sì, però poi abbiamo anche un'altra azienda appartenente al gruppo che dedica al cioccolato di modica che da un annetto abbondante ha ricevuto anche lei l'IGP. Quindi molto velocemente, melograno, chinotto, mandarino, arancia rossa, limonata, cedrata, tè alla pesca... Sì, diciamo che quest'anno abbiamo lanciato i tre tè. Sono un tè alla pesca, un tè al limone e in più un tè verde con l'aggiunta del lemongrass per rinfrescare. Queste bibite si possono bere sia fresche che a temperatura ambiente o è meglio fresche? Noi consigliamo fresche anche perché si possono apprezzare meglio quelle che sono tutte le note aromatiche. Dove si possono trovare queste bibite? Se uno le vuole comprare dove le trova? Beh, a parte il nostro sito e-commerce è possibile acquistare anche da privato. Poi abbiamo dei distributori, meno male, in quasi tutta Italia. In più qualche referenza è stata inserita anche in grandi distribuzioni. Quindi se uno vuole comprare online avete un sito? Sì, è www.polara.it. Diciamolo con i nostri ascoltatori. Sì, il sito è polara.it, molto semplice. www.polara.it. Esatto. Invece in tutta Italia voi siete presenti? Diciamo a macchia di lopardo. A macchia di lopardo. Negli anni stiamo cercando di implementare quella che è la nostra distribuzione nazionale. Molto bene, molto bene. Le bibite meritano, i prodotti sono ottimi, quindi non rimane altro da fare che acquistarli e degustarli. Buon lavoro e complimenti per la sua azienda. Grazie a voi, grazie.